Parliamo adesso del posizionamento del microfono vero e proprio, sì perché la presa diretta è andare a catturare l'audio però il microfono deve essere messo in una certa posizione Come è facilmente intuibile questo è solo un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sulle nostre piattaforme Quindi se vedete che vi manca qualche nozione andate a vedervelo perché sicuramente è molto più ampio e molto più interessante Torniamo alla spiegazione Partiamo col dire che un microfono professionale posizionato male non sarà efficiente quanto un microfono scarso posizionato bene Questa è la prassi, questa è la cosa fondamentale Prima addirittura di valutare il microfono dovete capire bene come lo si deve posizionare Perché se no l'audio non verrà bene, non verrà soddisfacente, sarà di qualità veramente, veramente bassa Il modo in cui si posiziona il microfono è fondamentale per la resa del vostro audio E' bene comprendere che l'elemento fondamentale è l'avvicinanza del microfono alla nostra sorgente E questo è fondamentale perché più avremo il microfono posizionato vicino alla nostra sorgente Più andremo ad escludere quelle che sono le interferenze dovute all'ambiente e ad altri suoni E isoleremo solo la voce Quindi in generale questo è il primo dato che dobbiamo tenere assolutamente a mente Secondo è l'angolazione del nostro microfono Infatti il nostro microfono deve avere un'angolazione di 30 gradi Quindi In questo caso come potete vedere Il nostro microfono non deve essere posizionato così Ma deve essere sempre posizionato a 30 gradi circa Ok? Quindi questo è quello che intendo con 30 gradi Ma adesso andremo poi ad approfondire questo discorso Per suono diretto e suono indiretto Intendiamo oltre alla posizione direzionata vera e propria dei 30 gradi del microfono O della sua posizione nello spazio Intendiamo anche il suono diretto come il suono che noi vogliamo riprendere E come il suono che ci interessa Mentre invece il suono indiretto è tutto ciò che entra all'interno del microfono Che non è di nostro interesse Questo può essere come abbiamo detto prima Dovuto ai rumori ambientali Ma anche la rifrazione delle onde sonore La riflessione delle onde sonore All'interno del nostro microfono Quindi echi, riverberi e tutto il resto Questo viene classificato come rumore indiretto Che entra all'interno del microfono E che noi giustamente non vogliamo Quindi per limitare i danni che ci sono Perché ovviamente ogni ambiente fa storia a sé Quindi se noi siamo in un ambiente isolato acusticamente in studio Non abbiamo di questi problemi Ma il 99% siamo in ambienti che comunque presenteranno disturbi Rumori, riflessioni Quindi per limitare il rumore indiretto all'interno del nostro microfono Possiamo arginarlo con il posizionamento del microfono Quindi oltre a quello che abbiamo detto prima Quindi degli accessori che vanno montati sopra il microfono stesso Noi possiamo arginarli anche con la sua posizione Fuori il microfono shotgun, per esempio Noi possiamo andare a far sì che i rumori ambientali indiretti entrino dai lati Questo perché? Perché il pattern del microfono stesso Quindi come è strutturato, come è realizzato Tenderà ad eliminarli molto di più Quindi se noi abbiamo dei rumori all'interno della stanza Fare in modo che questi rumori, queste riflessioni entrino dai lati Sicuramente ci aiuta Se poi noi abbiamo uno speaker, un attore che sta parlando La cosa fondamentale da fare, se abbiamo un microfono lavalier in questo caso È quello di andare a posizionare il nostro soggetto con le sue spalle al rumore di fondo Questo tenderà ad isolarlo Quindi noi abbiamo il soggetto, alle spalle abbiamo la nostra fonte rumorosa Mentre invece se abbiamo un microfono shotgun Dobbiamo fare in modo che il volto del nostro attore sia davanti a quello che è il nostro rumore Quindi noi abbiamo il rumore, io parlo verso il rumore Ma il microfono gli dà le spalle Quindi questo è il concetto fondamentale di come noi possiamo andare a posizionare il microfono Per eliminare alcuni suoni indiretti indesiderati Ci sono degli errori da non fare in merito al posizionamento del microfono Sicuramente è quello di andare a posizionarlo in maniera però sbagliata nella fonte diretta Quindi noi dobbiamo catturare l'audio diretto del nostro soggetto Non dobbiamo posizionare male il nostro microfono Quindi per non posizionarlo male che cosa intendo? Non dobbiamo puntare il microfono verso la testa del nostro soggetto Perché è una cosa che molte volte viene fatto Quindi si ha il boom in mano e si va a posizionare l'audio verso la testa Quindi a piombo sulla testa Questo assolutamente non va assolutamente bene E poi puntarlo troppo verso le scarpe Quindi puntarlo davanti in questa posizione qui Anche qui non va bene Quindi facciamo un esempio pratico Il microfono deve essere puntato in questo modo Quindi per esempio così Quindi non devo avere l'audio che punta in questa posizione Ma non devo neanche avere l'audio Adesso io sono un po' più alto Però che punta in questo modo qua Quindi che mi punta in questa posizione Quindi sopra la testa Io devo sempre avere un microfono puntato nella maniera corretta E ora vediamo come si fa Il microfono deve essere puntato verso la bocca abbiamo detto Quindi verso chi sta parlando Quindi ovviamente queste due posizioni sono assolutamente sbagliate Perché non ci permettono di catturare l'audio in maniera chiara, pulita e naturale Sarà proprio come abbiamo detto prima Fuori fuoco Ma quindi come si punta bene il microfono? Come direzioniamo bene il microfono Verso la voce di chi sta parlando? Allora ci sono due tecniche principali Due tecniche fondamentali La prima è quella di puntare direttamente Sempre con un'angolazione di 30 gradi Ok? In questa posizione Verso la bocca di chi sta parlando Questo ovviamente è quello che abbiamo detto prima Però chiaramente è molto difficile Perché? Perché se noi abbiamo uno stativo Come in questo caso Quindi con un microfono puntato così L'attore è seduto Sicuramente è molto più semplice Però se già siamo in movimento Se già abbiamo più interlocutori Chiaramente andare a puntare direttamente Sulla bocca del personaggio È molto difficile Perché abbiamo uno spazio Quasi di una pallina da tennis E quindi capite che è molto difficile Tenere la posizione E quindi per andare a ovviare un po' a questo problema Diciamo che molte volte si sceglie Di puntare il microfono All'altezza dello sterno Quindi di usare una superficie più ampia Come puntamento del microfono Quindi noi puntiamo il microfono Non più solo verso la bocca Ma ci teniamo un po' più indietro Per andare a posizionare A prendere una zona un po' più ampia E questo garantirà Ovviamente un audio leggermente Meno diretto Però abbiamo una costanza Estremamente maggiore Ora è il momento di fare una prova pratica Per farvi vedere cosa intendo Chiaramente io ho l'asta aperta In maniera sbagliata Sono collegato un po' così In maniera raffazzonata Ma è giusto per darvi un'idea Allora se Gianluca parla E io vado a posizionare Il nostro microfono Come abbiamo detto prima In maniera errata Quindi sopra la sua testa Avremo questo effetto La poesia è una forma d'arte Che crea con la scelta E l'accostamento di parole Secondo particolari leggi metriche Un componimento Fatto di frasi Dette versi Vedete in questo modo Io sto andando A posizionarmi E avete sentito sicuramente Il cambio drastico del suono Perché mi vado a spostare In direzione della sua bocca Però se poi io vado a posizionarmi All'altezza dello sterno Quindi del petto Avremo un risultato molto simile Che però ci consentirà Di andare a essere più agevolati Perché abbiamo più spazio Quindi continua pure a leggere Gianluca La poesia è una forma d'arte Che crea con la scelta E l'accostamento di parole Secondo particolari leggi metriche Un componimento fatto di frasi Dette versi Il cui significato semantico Si legga al suo Quindi abbiamo visto come Il potenzionamento del microfono Anche proprio sentendolo È fondamentale È come cambiare di tantissimo La nostra qualità sonora Soltanto spostandolo Di qualche centimetro Chiaramente però Non è sempre possibile Andare a catturare l'audio Dall'alto Perché ci sono degli impedimenti Che possono essere dovuti A molteplici fattori Quindi Per esempio lo spazio Quindi lampadari Soffitti troppo bassi Stiamo girando in una galleria Stiamo girando In una posizione In cui ci sono dei disturbi sonori Al soffitto Quindi dei neon Oppure per esigenze Proprio di inquadratura Quindi per l'inquadratura Non è possibile fare questo E allora cosa si fa? Si adotta un'altra tecnica Che si chiama lo scooping Lo scooping Si tratta semplicemente Lo avrete visto sicuramente In qualche backstage Di qualche film Si tratta di andare A riprendere l'audio Non più in questa posizione Ma in questa posizione Quindi noi andiamo A riprendere l'audio Dal basso Verso l'alto Questa tipologia Però di Di ripresa dell'audio Di ripresa diretta Ha dei problemi Sicuramente Che non siamo più Vicini Alla nostra Fonte sonora Quindi al nostro suono diretto Ma poi soprattutto Abbiamo tutta una serie Di complicazioni Proprio a livello di qualità E di frequenza dell'audio Ok? Perché mancheranno appunto Le frequenze alte E quindi avremo un audio Come abbiamo detto Di peggiore qualità Tra virgolette Diciamo che Un range Ok? Può essere quello Dal petto alle ginocchia Quindi noi dobbiamo Essere posizionati Almeno dal petto alle ginocchia Non possiamo stare In questa posizione Non possiamo stare più lontani Ma il range è quello Se no bisogna trovare Una soluzione alternativa Perché l'audio Non andrà bene Quindi ok? Massimo Abbiamo quel range Di spazio Se scendiamo troppo Allora non va bene Poi c'è un'altra cosa Da considerare Che gli operatori video Tendono sempre E io lo so Perché lo sono anche io Quindi a ridurre Di molto l'aria In testa All'inquadratura Di un personaggio Ok? Quindi la parte superiore E sicuramente inferiore Nell'inquadratura Rispetto alla parte Inferiore E quindi giustamente Anche lì Avremo problemi Di Come si può dire Di entrare in campo Ok? Dal basso Perché ovviamente Non ci sarà mai troppa aria Sopra la testa Per composizione E quindi Questa soluzione Diciamo che è proprio Come ultima spiaggia Cioè come ultima spiaggia Si può utilizzare Ma è anche molto più difficile Perché noi Nella zona bassa Avremo sicuramente Molti più ostacoli Rispetto alla zona alta E quindi sarà più facile Sbattere Sarà più facile Andare contro qualcosa Sarà più difficile A gestire il cavo Saremo più tirati Quindi Come soluzione Può andare bene Sicuramente Per una fissa È l'ideale Se non possiamo riprendere Nella zona superiore Con una fissa Possiamo metterci così Tranquillamente Però Se già ci dobbiamo muovere I passi E tutto Diventa molto molto complicato Si può utilizzare Però bisogna fare attenzione Per dare dunque Un piccolo appunto Visto che abbiamo parlato Di posizioni del microfono Volendo dare Un aspetto più tecnico No? Di centimetri Di distanza Vero e propria Ma chiaramente È relativo Però diciamo Che gli shotgun Dovrebbero stare Intorno ai 90 cm Dalla bocca Del nostro soggetto Mentre invece Abbiamo un 15 cm Massimo Per il lavalier Ok? Queste sono le distanze massime Che dobbiamo appunto Considerare Se vogliamo Avere un metro di paragone Se volete avere Un metro di paragone Per provare a casa Insomma Avere dei riferimenti Ok? Ragazzi Il video finisce qui Vi ricordo che Questo è un estratto Di un videocorso Molto più ampio Che abbiamo pubblicato Sull'audio Dove trattiamo Tantissimi argomenti Sulla presa diretta Su come essere Un vero fonico Per i vostri video Su youtube Quindi se vi è mancata Qualche informazione Oppure ritenete Di voler approfondire Ancora di più Alcuni argomenti Qui sotto trovate il link Per trovare Il videocorso completo Io vi ringrazio tanto ragazzi Ricordatevi Iscrivetevi al canale Mettete un like Fateci vedere Che questi video Sono interessanti E vi piacciono E ci vediamo Alla prossima lezione Ciao a tutti